Tragico incidente intorno alle 10 di martedì mattina lungo il raccordo autostradale di Arezzo. Una donna di 82 anni è morta per le ferite riportate nello scontro avvenuto all'altezza dell'area industriale di Pratacci. La donna Nerina Cannoni, residente nella frazione Aretina di San Leo, era alla guida di una Peugeot in direzione a Arezzo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un auto articolato che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Purtroppo per l'82enne non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 giunto sul posto ha potuto solamente constatarne la morte. L'autista del camion è rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco di Arezzo e la polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. E nel pomeriggio di martedì ancora un altro incidente drammatico nella provincia di Arezzo. Ancora un frontale, in questo caso tra due auto, in Casentino tra Calbenzano e Santa Mama. Nel violento impatto un'auto si è accartocciata su se stessa ed un anziano, Metello Rossi, di Castelfo Cognano, è morto sul colpo. Un altro uomo, un 43enne di Subbiano, è invece rimasto ferito in maniera non grave.